amici della mia junior dobbiamo avere un nuovo pacco che è arrivato non solo dove aprirlo si lo apriamo da qua cosa ci sarà dentro non lo so vediamo che prodotti mi saranno arrivati solo cartoni immaginare leggimi c'è una bellissima lettera vediamo che dice carissimo piero abbiamo il piacere di inviarti alcuni dei nostri prodotti nostra gente specializzata la produzione di prodotti di pasticceria e macelleria attraverso il nostro sito spiegano prodotti in tutto il mondo cercando di proporre la nostra produzione la cura attenzione della tipica la città città sicilia siciliani un'arte a quindi pasticceria siciliana spizzi e delizie vediamo di cosa si tratta devo dire che i pacchi che avrò della sicilia sono molto belli e molto colorati l'unico problema è che avevo un pacco sto comprando un casino ma ce la farò ce la farò wow wow confettura arance pistacchio crema di pistacchio stupenda marmellata extra di mandarino marmellata extra di limone confettura extra di frutta guardate che belle queste scatole con carretto siciliano mamma mia che bello vedere arrivare certe cose fino a new york guarda amici spettacolare questo guardate che belli beva pasticceria siciliana stupendi amici vi ringrazio devo dire che dalla sicilia arrivano sempre cose di altissimo livello vediamo questo cos'è magari è la stessa cosa no è diverso ci sono due scatole qua mi piacciono tante queste confezioni veramente mettono allegria che paese che isola stupenda siciliano ed è incredibile come certa roba possa arrivare a giugno bellissimi bellissimi davvero guardate qua che spettacolo mamma mia davvero uno spettacolo vediamo qua e voilà altre delizie altri dolcetti sono buonissimi già si vede dall'aspetto cosa mi manca cosa mi manca cosa mi manca vediamo ancora cosa manca allora cosa ci sarà qua via imera via imera palermo via imera palermo via imera chissà dove si trova via imera oddio ragazzi ma questo è stupendo anche questo cos'è non so cosa sia forse bisogna fare così wow wow bellissimo che bello questo dolce chissà come si chiama ma è davvero stupendo l'avevo mai visto bellissimo davvero la fine del mondo e infine proviamo l'ultimo qualcosa sta cadendo ma poi lo raccogliamo non è facile essere un esperto apritore di pacchi e voilà concludiamo con questo bellissimi bellissimi amici veramente sono felice e questo lo voglio anche provare non so cosa sia sfizie e delizie ti ringrazio per questo pacco confezione stupende poi proverò tutto allora vedete là il pacco il mio obiettivo è far conoscere agli italo americani tutti i prodotti che esistono in italia gli itali americani negli stati uniti di seconda e terza generazione sono come 60 milioni veramente una nazione fuori dall'italia devono conoscere tutte queste bontà ciao 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 ciao